chiamolo qui ecco qua certo che sono vicissimi questi del Mugello ricordati sempre che la campana va suonata in questo modo cioè il bordo non deve mai essere toccato in questo obiettivo colpirlo in base alla rinascita della persona lui mi sembra il 4 quando sei nato? il 30 gennaio il 31 del 86 quindi 30 1863 quindi il numero devi fare è colpire 1 2 3 e poi pausa perché devi entrare nella sua frequenza di nascita vuoi la palla? è più facile con la palla allora posiziona la campana perfetto ottimo vai colpisce adesso 1 2 3 perfetto se lo colpisce il bordo è ancora meglio 1 2 e 3 fantastico la posso alpire sopra e sotto dove vuoi? adesso però fai anche un movimento in cui il rullo questo rullo qui che vedi ok faccio anche un po di movimento cioè il movimento del rullo è questo che muove anche un pochettino la schiena ti piace guardo questo movimento del rullo? hai capito? quindi tu fai mentre fai il rullo? mentre fai il rullo fai anche il trattamento sonoro eh figata figata madonna mia il sale è nello stato di estasi totale allora io il rullo lo metto qui e sento che la nostra questa è la nostra scuola e questo è quello che facciamo per il trattamento del massaggio in amaca per diversamente altri ok? è uno dei trattamenti che ho inventato per loro perfetto ok lei perfetta prendiamo la quarta vediamo le amache che funzionano grazie a tutti Grazie.